Insieme ai diversi ruoli aziendali è possibile aggiungere anche tutta una serie di competenze tecniche e di comportamenti attesi, quindi tutte le art e le soft skills che si vogliono associare ai propri collaboratori. Le competenze e i comportamenti che vengono aggiunti in queste apposite sezioni sono volutamente indipendenti rispetto allo specifico ruolo aziendale. In questo modo è possibile gestire queste componenti in modo trasversale rispetto ai ruoli anche molto diversi tra loro e questo consente una gestione più efficace dell'intero organigramma. Infatti una volta creati sarà possibile associare liberamente ciascun ruolo, competenze e comportamenti attesi che ogni collaboratore deve possedere in relazione alla specifica posizione che ricopre.